Hey guys, qui è il vostro Gianni Gamer e bentornati in questo nuovo episodio della GameCraft. Nello scorso episodio siamo andati ad affrontare i pillager verso il bioma del deserto, dove ovviamente lì in quella zona c'era la torre di pillager, dove prima abbiamo scoprito i pillager in quella torre. E poi siamo andati ad attivare il primo ride dove abbiamo affrontato 5, e ben 5, ondate di quei pillager. E siamo riusciti a vincere e tornando a casa vincitori, ottenendo dei materiali veramente molto importanti dal drop di quei pillager. E naturalmente un altro tesoro che abbiamo trovato è stato anche all'interno di quel tempio del deserto, che si trovava vicino alla torre di pillager. E abbiamo trovato, diciamo, alcune robe per i cavalli, materiali importanti, eccetera, eccetera. In questo episodio, ragazzi, andiamo a fare un'altra costruzione all'interno della mia base. Ma prima di poter cominciare subito, raga, con il video di oggi, vi ricordo, raga, di lasciare un bel like per il continuo della serie. Mi raccomando, supportate al massimo la serie della GameCraft. E mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun prossimo video della serie. Bene, ragazzi, detto questo, possiamo subito cominciare con il video di oggi. Allora, come avete letto bene dal titolo, quello che ho intenzione di fare è proprio questo. Fare una sorta di stanza per le armature, ovvero anche per le armostand. Ebbene, sì, raga, perché vi ricordo che nello scorso episodio noi, ovvero io, sono andato ad affrontare i pillager con un'armatura che si trova nel piano principale della mia casa. Ve la faccio vedere che, appunto, la tengo esattamente qui, vedete? Perché c'ho la porta aperta? Oh, mi raccomando, non voglio vedere altri mob che entrano qua dentro la mia casa, eh, per favore, che già non ne voglio vedere neanche uno. Va bene, comunque, ad ogni modo, come potete vedere, qui c'è la mia armatura resistente che ho utilizzato nello scorso episodio. E diciamo che ho intenzione di levarla, appunto, perché non voglio tenere un'armatura proprio qui nel piano principale. Mi prendo anche l'armostand che voglio farvi vedere anche come voglio costruire questa stanza. Ebbene sì, raga, perché diciamo che voglio tenere almeno le armature all'interno di una stanza proprio qua, dove almeno ci tengo alcune armature che saranno molto importanti in futuro, no? Che almeno mi servirebbero per affrontare molti nemici in futuro. O meglio ancora, aspetta che intanto devo andare a prendere anche un po' di pieta perché devo farmi il piccone di pieta. Non voglio subito consumarmi un po' le robe di ferro, ecco, diciamo. Vabbè, ad ogni modo, almeno in questo modo, ragazzi, oltre che tenere almeno l'armatura di ferro, quella che tengo adesso nell'inventario qui dentro, almeno quello che voglio fare è molto semplice. Aspetta, ecco la carta di table. Voglio tenere, oltre l'armatura che tengo in questo momento, voglio tenere altre armature che otterremo in futuro. Tipo ad esempio, no? Se andremo a ottenere delle armature che sono tipo una di diamante, che ho abbastanza, tipo, molta resistenza, molta protezione e viceversa, almeno la posso tenere qua in modo che così ce l'ho pronta a portata di mano in caso dovreste andare ad affrontare altre spedizioni molto più difficili rispetto a quella che abbiamo fatto nello scorso episodio, ecco. Quindi direi che una stanza per l'armatura ci può stare nella mia base, diciamo. Allora, aspetta che intanto devo tornare altre robe dall'inventario e dalla mano perché non voglio scavare con l'armatura, ecco. Va bene. Ad ogni modo, come sempre, ragazzi, mi raccomando, consigliatemi nei commenti altre cose da fare, tipo costruire qualche altra stanza nel mio sotterraneo, oppure costruire qualcosa anche fuori, tipo fuori dalla mia base. No, non lo so, ragazzi, scrivetemi qualcosa nei commenti perché io, ragazzi, stavo pensando di poter costruire già la stalla per gli animali perché, appunto, raga, come avete visto anche negli scorsi episodi non voglio più tenere gli animali nei cinti e quindi voglio dedicare, appunto, una stalla per loro, come, appunto, ho fatto per i cavalli. E poi, siccome ho anche gli armadilli, sto pensando di poter costruire un habitat per gli armadilli, che poi non so esattamente come poter costruirgli questo habitat per loro. Se vorrei, ragazzi, avete qualche consiglio su come fare l'habitat per questi armadilli, raga, scrivetemi nei commenti, almeno datemi qualche consiglio su come poter fare questa sorta di habitat per gli armadilli perché, secondo me, raga, ci può stare veramente. Vabbè, ad ogni modo, allora, la stanza ve la voglio far vedere anche per quanto riguarda questa stanza delle armostand. Allora, diciamo che qua la stanza l'ho fatta tutta quanta, mi manca soltanto da terminare di fare il tettuccio, perché il tettuccio lo voglio farlo abbastanza alto, come potete vedere, e non so quanto alto lo vorrei fare, perché poi vorrei metterci anche delle decorazioni, che purtroppo in questo momento adesso, raga, non li ho, anche perché devo andare a prendermi pure altre decorazioni anche fuori dalla mia casa e viceversa. O anche del carbone, mi serviva proprio, raga, visto che ho dovuto utilizzare... Cioè, ho dovuto utilizzare tutto il carbone che me l'ha quasi finito, comunque, eh. Vabbè. Ad ogni modo, voglio farlo alto, casomai, fino a qui per il momento, poi vedrò esattamente cosa fare, perché delle decorazioni, raga, come vi ho già spiegato, dove andarle a prendere anche fuori dalla mia base, e non sono molto facili da prendere, perché le decorazioni di cui sto parlando, forse sarebbero anche molto difficili da prendere, ecco. Ecco qua, ragazzi, come potete vedere, adesso la stanza è diventata, esattamente tutta vuota e grande abbastanza per poter fare la nostra stanza delle armostand. Vabbè, detto anche armature, chiamatele come volete, insomma, vabbè. Ad ogni modo, allora, per fare l'acquisizione, vi faccio vedere come ho intenzione di farla. Allora, sto pensando ad utilizzare il quarzo, naturalmente, perché una stanza con le armostand, il quarzo ci sta veramente tanto bene. Poi non so se con il pavimento vorrei metterci o il legno di rovere, oppure il legno da bete, ma purtroppo non l'ho fatto in tempo a prenderlo, quindi, naturalmente, poi, appena avvo il tempo, ragazzi, andrò a cambiarlo al posto delle assi di rovere con quello da bete, oppure, invece del legno, utilizzare i mattoni di pietra. Perché, secondo me, o potrei mettere, o per caso, utilizzare gli assi di rovere, tipo nei angoli, che così almeno ci stanno benissimo, oppure utilizzare i mattoni di pietra e fare l'opposto. Vabbè, ad ogni modo, staremo a vedere. Allora, innanzitutto, vorrei prima prendere un po' di blocchi che mi possono usare. Tanto, metto a posto un po' nell'inventario, perché sto veramente messo... Oh. Perché non mi faceva spostare... Raga? Raga, perché non mi fa spostare le robe? Oh. Non mi faceva spostare... Non so perché, raga. Molto strano. Vabbè, ad ogni modo, stavo dicendo, vorrei intanto prendere i blocchi che già mi servono, che sono questi qua, quelli di quarzo. Che cosa nemmeno vi faccio vedere come voglio fare la stanza? Allora... Ah, tra l'altro mi serviranno anche le lastre, perché voglio farvi vedere, appunto, come voglio fare, diciamo, la stanza. Cioè, insomma, come voglio posizionare l'armostand. Allora, qua avevo fatto un blocco, avevo messo qui un blocco, perché almeno per delimitare, diciamo, la zona dove vado a mettere, appunto, l'armostand. Sto pensando, appunto, di poter fare questa cosa qui. Guardate. Fare una sorta di piedistallo, dove al centro ci vado a mettere sopra l'armostand. Ovvero, guardate, ci vado a mettere, che ne so, ad esempio un blocco, e qua sopra ci vado a mettere l'armostand, con l'armatura. Allora, stavo pensando, in realtà, raga, di metterci un'altra cosa al posto del blocco di quarzo. Se volete saperlo, qualcosa di luminoso come il blocco, quello luminoso acquatico, che appunto si fa utilizzando il prismarino luminoso che si trova soltanto nel tempio sott'acqua. Purtroppo non l'abbiamo ancora trovato, ragazzi, e mi piacerebbe tantissimo utilizzarlo per questa cosa qui, perché siccome, raga, è molto stiloso e anche molto dettagliato. Invece qui, dai lati, raga, qui, voglio farci appunto un sentiero, utilizzando, penso, i mattoni di pietra, perché, peraltro, raga, voglio vedere se con i mattoni di pietra verrebbe uno stile bellissimo, a parte il fatto che voglio metterci sopra il tappeto rosso, perché quel tappeto rosso, raga, verrebbe veramente bello come decorazione, e ve lo posso assicurare, perché almeno voglio farlo uguale come sto facendo anche per le vie del sotterraneo, no, per il sotterraneo, ecco. Almeno farlo uguale, diciamo, ai lati, no? Guardate, almeno diventerebbe in questo modo. Poi, per le scalette, raga, come avete visto, voglio farlo esattamente così. Poi, ai lati ci vado a mettere, appunto, questi blocchi qui, che sono, appunto, i blocchi importanti di quarzo, perché poi il risultato verrebbe in questo modo. Guardate, adesso utilizzo altre scalette, che poi, per fortuna, raga, mi sono fatto tantissimi blocchi di quarzo, e voi, raga, non avete idea di quanto sono, di quanto sono dovuto stare nel nether per prendere tutto il suo quarzo, perché l'ho dovuto consumarne così tanto per i blocchi, ma anche difficili per trovare, cioè, non difficili, cioè, soprattutto faticare tantissimo per prenderne tanto, raga, cioè, voi non potete capire. Allora, sto pensando, appunto, di mettere le scalinate qua e lì. Non ai lati, perché nei lati, ragazzi, voglio farci il muro solido dove vado a mettere qualche decorazione che, purtroppo, l'ho già detto, non ho abbastanza decorazione per poter fare, diciamo, tutte le decorazioni della stanza. Ma almeno vi faccio vedere, diciamo, proprio la stanza completa, non al 100%, ma almeno per come diventerebbe senza molte decorazioni senza molte decorazioni che avvelirebbero molto la stanza, ecco. Vabbè. Ad ogni modo dei tappeti, raga, non ho ancora abbastanza lana rossa. O meglio, credo di avercena. Credo di avercene, forse. Non ne so sicuro. No, perché l'ultima volta che ho utilizzato la lana era per fare il murino a vento, ecco, quello dove c'è la farmia di grano. Quindi non lo so. Non lo so se ancora mi rimasto un po' di tappeti rossi, ma posso andare direttamente a vedere. Allora, poi, raga, da questa parte, il patato dovete vedere anche una cosa. C'ho alcune lastre di... Sì, eccoli qui. Allora, vediamo un po'. Vorrei fare distante da qui. Eh, devo ancora allargarlo, ragazzi. Devo ancora allargarlo perché pensavo che mi bastasse. Devo farmi un altro piccone di pietra perché purtroppo questo di fare non mi sta consumando. E non voglio utilizzare, ragazzi, il piccone... Ecco, appena l'ho detto. Non voglio utilizzare questo piccone qua che è indistruttibile e efficiente perché appunto, raga, questo piccone, raga, è uno dei più resistenti che abbia, diciamo, avuto la fortuna di avere per il momento perché poi, raga, va bene che c'è quello di... Ah, forse c'è un nemico dall'altra parte. Vabbè, dicevo, per il momento è uno dei picconi migliori che abbia mai avuto adesso in questo momento nella vanilla. Vabbè, adesso perché c'è adesso il diamante che me lo so appena fatto ma purtroppo non è come il piccone di ferro. Però appena avrò la possibilità di poter fare... Aspetta, fai un controllare... Ok. No, perché devo farlo appunto uguale, quindi... Aspetta. Ah, era giusto, me sa. Sì, sì, sì. Credo che fosse... Sì, sì, era giusto, era giusto, era giusto. Allora qui devo per forza metterci un blocco perché appunto qui, raga, va coperto e qui vado a metterci appunto i blocchi questi qui, ragazzi, ovvero questi. Sì, perché lì ci sono appunto le colonne e danno un bel risalto alla stanza, no, diciamo. Qui adesso devo un attimo allargare, qua alzare un pochettino, sì, raga, perché purtroppo, raga, non mi aspettavo che... Pensavo che dovevo... Pensavo che avevo già fatto la stanza e mi sono dato bene le misure della stanza. Invece no. A quanto pare dovevo per forza fare questo. Allora, poi davanti, vi stavo dicendo che qua davanti, qui, ho intenzione di farci, sapete cosa? Voglio farci un'altra stanza dove voglio tenere un'armatura la più resistente di tutte le altre quattro che tengo in questa stanza. Perché appunto, ragazzi, di sicuro in futuro, come ad esempio, no, adesso l'armatura quella più resistente è quella di netherite. Se avrò un'armatura di netherite con un incantismo abbastanza potente e abbastanza efficace, molto più potente rispetto alle altre, la vado a mettere nella stanza centrale. Io una stanza che vado a creare qua davanti, tipo, ad esempio, ci vado a mettere dei scalini dove davanti, faccio una bella decorazione per un'armatura degna di essere tenuta al suo interno. Vabbè, ad ogni modo, per adesso, raga, non ho abbastanza materiali e per il momento non ho ancora un'armatura decente. Vabbè, anche perché è vero, purtroppo. Però in futuro, vedremo se avemo l'occasione di avere, appunto, uno di quelle armature di cui parlo. Va bene. Ora, mi manca soltanto da terminare di fare le missioni della stanza e poi potremo subito procedere con la costruzione della stanza. Ok, ragazzi, finalmente ho finito di dover sistemare tutta quanta la stanza e adesso possiamo subito procedere con la costruzione della stanza. Allora, prima di tutto devo prendere innanzitutto il legno di rovere perché appunto voglio vedere l'effetto che dà da questa parte il legno per quanto riguarda anche il piedistallo, no? Perché voglio vedere se ci potrebbe stare veramente bene il legno da quella parte verso gli angoli. Perché secondo me, ragazzi, verrebbe bene, sapete, da una parte secondo me verrebbe molto bene. Poi non lo so, raga, perché avevo detto forse che o facevo l'incontrario che metto... No, secondo me è bello così, raga, guardate. Adesso vediamo, finisco un attimo di vedere, finisco un attimo quest'angolo e poi... Allora, no, qua non va messo perché appunto lì, raga, ci vanno le scalette, appunto. Adesso vediamo, vediamo un po'. Eh, guardate, devo essere sincero, è veramente bello così, però non so se cambiarlo con il legno di rovere oppure con quello che avete. Ditemelo nei commenti se volete che lo cambi con quello di abete, eh. Va bene, ad ogni modo almeno sappiamo come lo voglio fare almeno questa sorta di terreno, almeno, no? Questa, questo, il pavimento almeno dove ci stanno le armostand. Appunto adesso ne tengo solo una, ragazzi, perché per fare le altre armostand diciamo che le posso fare effettivamente, però per adesso voglio dedicarmi a fare tutta la stanza e poi una volta che l'abbiamo completata posso passare direttamente a fare un'altra cosa, ovvero quella di dedicare a fare le armostand e tutto il resto e per la fine vabbè. Non so se riuscirò a completarla tutta al 100%, perché appunto ragazzi non so se il quarzo mi può bastare, anche perché va bene che ne tengo un po', ma non sono sicuro che il quarzo che tengo ancora mi potrebbe bastare per terminare tutta quanta la stanza, perché devo fare anche il tettuccio, devo fare anche il, diciamo anche altre cose, insomma avete capito, no? Allora intanto, sbagliato, devo prendere innanzitutto la captain table che devo farmi altri di questi blocchi che mi servirebbero per fare le vie da questa parte, anche qui, poi qui devo anche distruggere il blocco, no raga perché le mura come vi ho già detto mi servirebbero per forza i blocchi, va bene che le scalette poi alla fine sarebbe uno spreco utilizzare i blocchi per le scalette, adesso ho fatto soltanto vedere come verrebbe da una parte e verrebbe veramente bene, poi per l'illuminazione ragazzi ve l'ho già detto ho intenzione di usare qualche illuminazione diversa, come vi ho detto raga voglio usare quella di Pismarino appunto, però purtroppo non ce l'ho e ci sarebbe benissimo come decorazione, ah un'altra cosa che mi sono dimenticato di fare è fare alte lastre, perché appunto raga mi servirebbero alte lastre per completare la struttura ecco, facendo così ok perfetto e poi anche di qua perfetto almeno così siamo a posto sì raga perché tengo due armature a destra e due armature le tengo a sinistra così almeno posso tenere diciamo allora per quanto riguarda le armature vi dico già non so quale tipo vorrei tenere perché a me mi piacerebbe tantissimo tenere diciamo le armature che preferisco tenere vabbè quella di pelle non lo so anche perché volevo tanto tenere da parte qualche arm on stand cioè tenere da parte alcune armature che non sono importanti almeno di lato poi non lo so vedo esattamente di pensarci o di pelle oppure di maglia metallica ecco di sicuro quella di ferro la voglio tenere per il momento poi casomai la cambierò e metterò quella di diamante perché secondo me quelle di diamante e quelle di netherit ci stanno veramente tantissimo però per il momento posso fare ferro e diamante da una parte e poi quando avrò abbastanza netherit per fare le armature che poi tra l'altro ragazzi vi ricordo che le armature adesso non le posso non le posso fare fino a quando non ho il progetto per fare lo schema cioè fino a quando non ho lo schema per fare le armature perché appunto devo andare nel nether a cercare lo schema dentro alle fortezze dei pigreen appunto raga lì che si troverebbe allora mi faccio altro legno di rovere visto che non mi basterebbe ancora spero almeno che questo mi può bastare per il momento anzi aspetta che ho sbagliato perché qui non devo andare a metterci questo ma devo metterci ecco aspettate ah no no avevo fatto bene avevo fatto bene mi sono confuso avevo fatto bene scusate no perché mi sono confuso infatti con le scalinate porca vacca è vero perché qua appunto non ci vado a mettere le scalinate giusto giusto beh almeno dai almeno il risultato verrebbe bellissimo se per almeno se per almeno che non mi si distrugge il piccone facciamo così proverei a utilizzare il piccone questo qua di ferro va bene che mi sta quasi per distruggere però spero almeno che non mi si distruggerebbe del tutto almeno utilizzandolo per questo guardate spero almeno allora per il momento non vado a mettere altri blocchi qua sopra perché uno l'ho già utilizzato soltanto per mostrarvi un attimo un po' come diventerebbe il piedistallo con sopra l'armatura ecco però almeno da una parte e intanto qua ci metto subito la via che porta verso la stanza centrale che ovviamente raga se volete saperlo voglio farlo largo di 5 perché secondo me raga largo di 5 ci può stare però le scalinate saranno larghe no qua non ci devono andare niente qua ci devono andare scalinate dicevo le scalinate saranno larghe da 3 però la stanza sarà larga da 5 perché appunto ragazzi ci starebbe per forza una stanza larghissima e poi deve essere anche abbastanza grande poi tra l'altro va bene però questo lo vedremo in futuro quando ovviamente farò una stanza dedicata a una delle armature che otterrò ovviamente nella mia vanilla per adesso non dobbiamo pensarci molto ok ragazzi appena finito di sistemare il pavimento guardate un po' che figata manca soltanto un ultimo pezzo spero a meno che mi basta almeno gli ultimi pezzi si mi possono bastare guardate un po' come viene l'effetto guardate cioè è diventata tutta un'altra stanza adesso va bene che qua nei lati raga devo andarci a mettere appunto le diciamo le scalinate però per adesso raga non voglio consumarmi tanto quarzo per le scalinate no capite perché poi alla fine non posso avere il tempo per dedicarmi a fare le mura perché adesso le mura raga sono quelle che mi interessano di più fare e poi anche il tettuccio ecco anche il tettuccio quindi raga adesso pensiamo subito a fare le mura che appunto come vi ho detto voglio utilizzare il quarzo per fare le mura mi è rimasto soltanto un blocco di legno posso anche metterlo a posto che tanto questo non mi serve non mi serve manco la pietra micca quante robe c'ho nell'inventario porca vacca vabbè insomma per fare queste costruzioni ce vuole un po' va bene ora spero a meno che i blocchi di quarzo che ho preso che mi so fatto mi possono bastare per fare tutte le mura laterali spero veramente di sì ragazzi perché non lo so ma almeno una cosa è certa da questa parte raga cioè guardate un po' sta diventando veramente bello solo che mancherebbe soltanto l'illuminazione e stavo pensando anche di farla dall'alto almeno l'illuminazione perché ci potrebbe stare da una parte sapete ci potrebbe stare da una parte almeno che metto un'illuminazione che potrebbe difettare dall'alto sapete vabbè per quello ci potremmo pensare anche più tardi per adesso raga devo fare 4 di questi blocchi qua che appunto sono i blocchi portanti ecco qua che li vado a mettere qui poi dei lati ragazzi appunto qua ci vado a mettere tutti i blocchi di quarzo possibili e poi ovviamente quando avrò abbastanza decorazione come vi ho già spiegato andrò a metterci un qualcosa di decorativo che per il momento adesso ancora non saprei cosa potrei andarci a mettere ma molto presto quando avrò abbastanza decorazioni materiali per le decorazioni ve lo vedremo insieme allora sarà davvero un lavoro veramente duro quello di fare le mura ma ne vale di sicuro la pena ve lo garantisco oh guardate un po' raga ho appena trovato anche una caverna qua dentro c'erano anche dei pipistelli boh casomai questa caverna si è generata praticamente a caso va bene ad ogni modo dai ci sta esattamente questa cosa ah porca vacca ragazzi sono appena entrati anche i pipistelli dentro la mia alla mia stanza delle armature vabbè almeno avere un po' di compagnia per questi pipistelli non mi farebbe molto male sempre a meno che non sono di beh voi sapete di chi sto parlando no? di aerobrine spero almeno che non c'ho aerobrine perché i pipistelli sono sempre un loro segno ma spero di no raga perché altrimenti potrei chiudere il server potrei chiudere la vanilla da un momento all'altro questo è poco ma sicuro ok ragazzi purtroppo non è venuto abbastanza bene ma mi manca soltanto un'ultima parte dove devo andare a metterci i blocchi questi qui ragazzi eh purtroppo non mi bastano raga per fare tutte le mura però almeno ho fatto le mura quelle importanti adesso l'unica cosa che mi tocca fare è usare l'ultimo quarzo per fare praticamente sì raga perché purtroppo raga per fare il tettuccio mi ci vorrebbe tantissimo però almeno non vi preoccupate adesso facciamo le ultime scalinate eccoli qui che così almeno vediamo un po' se possiamo direttamente terminare questa costruzione perché se per caso non bastano dove infatti no non mi basta allora a questo punto raga quello che devo fare è tornare nel nether e prendere tantissimo quarzo comunque almeno a proposito io vedo che manca altri pezzetti eh vabbè papà adesso che mi sembra di succedere il piccone vabbè posso anche utilizzare questo tanto comunque non devo più scavare adesso la cosa che devo fare è una ovvero quella di creare tanta armostand là sopra e poi per il momento raga adesso vado a metterci questi blocchi qui che reggono appunto le armostand perché appunto raga ve l'ho già detto i blocchi di quarzi non li voglio andare a mettere appunto perché i blocchi di quarzi come i piedistalli non mi convince proprio quindi ovviamente quello che vi ho detto ho intenzione di poter utilizzare quello di prismarino allora dove stava ah giusto eh aspetta eh se mi ricordo ecco adesso mi sono pure dimenticato questo dovevo andare a prendere aspetta poi tra l'altro per fortuna che i piedistalli non mi hanno dato nemmeno fastidio eh per fortuna guarda ah se giusto è vero eh qua manca un pezzetto anche di legno allora aspetta che lo vado a mettere allora fortuna è che l'ho tenuto qui va bene allora a questo punto raga dai vado ah ecco ecco cosa volevo andare a fare creami l'armostand credo di avere eh i blocchi ehm dove stanno ah forse stanno qua credo aspetta eccoli ce le avevo già le last ecco perché appunto per fare le armostand servirebbero appunto ehm queste qua appunto che sono le laste di pietra levigata allora penso che mi basterebbero appunto aspetta eh due allora mi devo fare altri bastoncini a me non ne posso farne tre perfetto tanto me ne servivano tre giustamente poi non so se un'altra armostand la vorrei tenere nel piano principale ma per adesso tutte le altre armostand le tengo qua davanti qui ecco qua ovviamente raga poi tra l'altro voglio dargli anche una bella ecco ah perché c'è il pipistello che mi dà fastidio eh vabbè comunque vabbè eccoli qui raga ora come potete vedere adesso la stanza è in questo modo ma piano piano vedete che prima o poi la stanza diventerà veramente grande e il problema è che purtroppo non ha abbastanza quarzo da poter metterne altro ragazzi capite vabbè almeno ragazzi sta venendo veramente un bel lavorone almeno con questa sorta di stanza eh poi ovviamente con le decorazioni verrebbe tutto un altro effetto va bene ad ogni modo con questi pistelli che appunto mi stanno facendo compagnia in questa stanza e aver visto anche questa stanza come sta diventando piano piano vabbè perché sembra in fase di costruzione effettivamente eh se ci pensate vabbè ad ogni modo detto questo potremo anche direttamente concludere così per questo episodio quindi mi raccomando ragazzi se avete altri consigli per la stanza oppure per altre costruzioni che volete vedere nel prossimo episodio mi raccomando scrivetelo nei commenti mi raccomando e come sempre ragazzi vi ricordo di lasciare un bel like di condividere il video con i vostri amici e mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere nessun prossimo video della serie detto questo ragazzi dal vostro Jamie Gamer vi saluto e al prossimo episodio see you next time mi raccomando Grazie a tutti.